Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto in Viale Magna Grecia, siamo sulla pista ciclabile a pochi metri dalla parrocchia di San Lorenzo. Intanto, una parentesi, già abbiamo avuto modo di dirlo quando nacque, questa pista ciclabile si è rivelata completamente inutile. È completamente inutile perché è poco usata dagli amici della bicicletta, diventa più che altro la meta purtroppo di padroni incivili di cani, i padroni incivili non i cani, i poveretti, che portano i loro amici a quattro zampe a fare i bisogni qui. Ma questo è un fatto di inciviltà. Voglio incentrare la mia attenzione sul fatto che qui crescono rigogliose, numerose, cresce rigogliosa l'erbaccia, o meglio, crescono le erbacce e non vengono rimosse. Ora, sappiamo che il comune di Taranto, l'amministrazione comunale, ha dato in appalto ad una o più aziende, non so bene, la cura del verde pubblico e sarebbe opportuno che qui non ci trovassimo tra le siepi e le erbacce, che, ripeto, danno un'immagine di degrado, di abbandono, di incuria. E allora io dico, se si fanno delle belle siepi, è giusto che il degrado e l'igiene siano sempre garantiti. Per un semplice motivo, perché poi sotto queste erbacce, in queste erbacce si annidano insetti e circolano e questo diventa, come dire, veicolo di infezioni, oltre al dato, all'aspetto estetico. Ecco, io dico che bisogna programmare e sul verde pubblico a Taranto, io noto che si procede un po' a macchia di leopardo, si interviene più per tamponare le singole falle, piuttosto che non abbiamo in buona sostanza interventi, figli e frutto di una programmazione. Come per altre segnalazioni che abbiamo fatto, sicuramente in seguito a questa arriveranno gli operatori a rimuovere queste sterpaglie e queste erbacce, ma noi non vogliamo essere, sì, siamo il cane da guardia rispetto alle segnalazioni dei cittadini, ma noi vorremmo una città normale in cui normalmente si procedesse ai vari interventi pubblici proprio in seguito, a seguito di una programmazione. Manca la programmazione ed è brutto, ripeto, vedere certe situazioni di, altro che decoro, di proprio invivibilità urbana. Questo è l'appello, vedremo. Già la pista ciclabile è stata un flop, se poi aggiungiamo pure l'erbacce che è stata fatta a fare, grazie a tutti.